Ciao, come ti chiami? Alessandra Platania. Quanti anni hai? 15. Perché sei qui? Vi porterò un pezzo che mi descrive al meglio e racchiude tutto il mio mondo musicale, quindi canto. Allora ti ascoltiamo volentieri. Va bene, grazie. 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 No, no, you can't see it through my chest Said I'm terrified, but I'm not living, no I know that I must pass this ass So just pull the trigger Ora fate, tutte le bocche lasciate aperte Mi telefono squilla tutto il giorno come numero verde C'è flow che morde, in un colpo vi stacca le teste A faro che faccio, nemmeno se ci provaste Ci riuscireste, non è vera originalità Deve essere triste, voi vi siete artiste Io sono Yancy, devo le apprendiste Tutti provano a fare rap e lo trovo divertente Ogni vostro pezzo che ascolto è peggiore del precedente Adesso voglio la luce dei rinfratori tutta su di me Oggi sareiata su questo parquet di pezzi Non ho scritto i tre, non provarci, impossibile Trovarne una quindice che è come me I want your love, just leave me on Won't give it up, hey, 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 hey Cause I'm a sucker for you Boom, shanga, linga, linga, boom, shanga, linga Cause I'm a sucker for you Boom, shanga, linga, linga, boom, shanga, linga Ciao Alessandra, sei veramente una forza della natura A me sei piaciuta tanto Dai i tuoi gusti musicali che condivido appieno Alla tua voce veramente incredibile Bravissima, brava, brava, brava Grazie mille Hai una bellissima voce E anche una bellissima interpretazione di quella canzone E poi la parte, cosa dicevi? Andavi così veloce e io non capivo niente Sì, velocissima Chi hai scritto il testo? Tu? Sì, sono stata io a scrivere il testo E cosa racconti in quel testo? Diciamo che racconta un po' di me Dice che lei è la più figa di tutte, capito? Sì, ok C'è tutto un dibattito sul rap velocissimo Perché i vecchi rapper dicono che non è vero rap È solo un virtuosismo E a me piace tantissimo invece Ti ho trovata veramente bravissima Canti benissimo Sai rappare velocissimo Quindi hai tantissimo talento Grazie Non c'è dubbio che sei brava Nel rap ti ho trovato fantastica Devo dire, non ho capito bene quello che hai detto Perché era talmente veloce che doveva risentirlo 32 volte Tecnicamente bravissima Grazie Votiamo? Votiamo Per me sì Anche per me assolutamente sì Grazie Per me sì Alessandra, allora tenete a casa con quattro sì Perché sei stata bravissima Ciao, 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 ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Grazie a tutti